Sarà il carnevale della città metropolitana e anche per questo ha ospitato nel sito del carnevale di Venezia le notizie riguardanti gli altri carnevali, in particolare quello di Cegge, ed è qui con noi Ivan Orlando, eccolo qui. Buonasera. Buonasera, allora lui è in rappresentanza del carnevale di Cegge, un carnevale antichissimo, lo ricordiamo, è nato 64 anni fa, ogni tre anni cambia direttivo, questo è il nuovo direttivo, quindi è cambiato in meglio naturalmente un po' di aria fresca, hanno puntato di più sui social, eccetera, sta di fatto che insomma sta per chiudersi un carnevale di Cegge particolarmente frequentato, particolarmente affollato, giusto? Sì esatto, siamo estremamente molto soddisfatti come organizzatori di quella che è la 64esima edizione di questo carnevale, che è, diciamo, un carnevale molto particolare, un carnevale diverso dagli altri per la maestosità dei carri allegorici che vengono costruiti, ricordo, interamente nel paese di Cegge, da parte di cinque compagnie in gara tra di loro. E che sono alti come palazzi. Alti come palazzi, esatto, questa è forse la particolarità che non troviamo invece in altri... ...che infatti vediamo le immagini e la cosa bella è che il Comune ha messo a disposizione un capannone proprio per costruirli, no? Esatto, il Comune ha negli anni finanziato la costruzione di questo capannone all'interno del quale queste cinque compagnie costruiscono i carri allegorici per poi sfidarsi a febbraio durante le tre sfilate del carnevale. Certo, allora, 6.000 anime e 1.000 persone ci lavorano su questi carri che sono tutti a tema, i temi vengono scelti più o meno in agosto, si cominciano a smantellare i carri dell'anno precedente in settembre e poi alla cittadinanza vengono proposti i bozzetti in gennaio. Esattamente, diciamo che l'iter parte proprio a fine agosto, quando le compagnie dopo le vacanze estive si ritrovano e decidono qual è il tema per l'edizione successiva. Viene poi disegnato un bozzetto di quello che sarà il carro, viene deciso come realizzarlo, poi viene portato nel consiglio direttivo dell'associazione, si verificano che non ci siano doppioni o comunque che i temi siano consoni a quelli che, insomma, sono i canoni di una sfilata di carnevale e poi si parte, si parte con la realizzazione che vede il suo club ovviamente dopo le feste di Natale con il mese di gennaio dove in capannone praticamente si lavora giorno e notte. C'è praticamente il coinvolgimento di un componente per famiglia di Ceggia, no? Perché 6.000 abitanti e 6.000 persone che vi sono coinvolti, quindi praticamente tutti lavorano al carnevale di Ceggia tutto l'anno. Sì, in un modo o nell'altro o chi costruisce i carri oppure chi è impegnato nella realizzazione delle coreografie piuttosto che dei vestiti. Quindi Ceggia è divisa in cinque squadre, praticamente un po' come nel Paglio di Siena dove si contendono questa coppa, no? Ecco, dice bene, a me l'accostamento piace molto perché credo che comunque sia una competizione che all'interno del paese è molto sentita tra queste cinque compagnie. Ricordo che c'è anche un sesto carro che è fuori concorso ma ormai è una trentina d'anni che fa parte della tradizione del carnevale di Ceggia che è appunto il carro della scuola materna Caritas Christi nel quale appunto i genitori dei bambini si cimentano nella costruzione del carro. Ecco, la cosa bella di questo carnevale quest'anno è che avranno tra l'altro un personaggio di eccezione che consegnerà il premio che sarà consegnato domani sera, no? Martedì Grasso, cioè Luca Zaia. Quindi un riconoscimento che insomma piace a Ceggia perché Ceggia aspira a diventare un carnevale regionale. La nostra aspirazione, il nostro desiderio e anche un po' diciamo l'ambizione è quello di far crescere il nostro carnevale da un carnevale territoriale, comunque già famoso. Punto di riferimento del Veneto orientale, no? Certo, a un carnevale regionale per poi spingerci chissà dove. Noi speriamo di diventare un carnevale famoso in tutta Italia. Volete fare concorrenza al carnevale di Venezia? No, al carnevale di Venezia, con il carnevale di Venezia quest'anno abbiamo avviato una partnership grazie anche alla pubblicità diciamo che è stata fatta all'interno dei carnevali metropolitani e l'accordo appunto con la città metropolitana di Venezia. Io direi che adesso dobbiamo andare assolutamente a vedere i carri. Sono già sfilati in due sfilate ieri e anche questa per esempio sono le immagini della sfilata. notturna, martedì ci sarà la terza sfilata. Allora, le compagnie come si chiamano? Per esempio questo carro? Questo è Scacco al Potere ed è della compagnia Gli Amici del Carnevale. Vuole rappresentare in qualche modo i poteri occulti che governano il mondo e non ci fanno fare delle scelte consapevoli anche se noi pensiamo di sì. Ecco, vedo che poi ci sono anche dei gruppi mascherati tra un carro e l'altro perché in fondo si tratta soltanto di cinque carri. Vediamo se magari, ecco questo... Ecco, questo è il carro di Liva Zancana, abbiamo tutti perso la memoria che come si può vedere è ispirato al film, alla ricerca di Dori e questo è molto piaciuto ai bambini ovviamente per il tema. Ecco, sono bravissimi specializzati nel costruire questi carri perché usano la carta pesta, usano il gesso ma usano anche dei meccanismi idraulici, ecco per esempio questo qui è carro, eh? Certo, questo è il famoso drago della compagnia delle simpatiche canaglie che si intitola L'amore rubato e tratta il tema della violenza sulle donne. Quindi sono anche temi molto importanti, temi sociali molto sentiti e che vengono appunto inquadrati in un'ottica del carnevale per poterne comunque parlare e discutere. No, dicevamo bravissimi nel utilizzare per esempio effetti speciali, no? Sì, come ha visto diciamo ci sono effetti speciali come fumo, come delle luci, i led e negli anni diciamo questa tendenza si sta consolidando sempre di più per offrire uno spettacolo a tutto tondo allo spettatore. Ecco, manca un carro mi pare, no? Non ne abbiamo parlato, vediamo se forse la regia può mostrarlo e sempre più giù forse, no? Sì, esatto, sempre più giù che parla del tema dell'inquinamento ed è rappresentato da questo sub che va sempre più giù in fondo al mare e trova il mare deturpato. Poi ne manca un altro che abbiamo intravisto prima che è quello dei ventenni revolution che invece è un omaggio alla cultura italiana nel mondo ed è rappresentato da un arcimboldo, questo Dario Fò che come un nonno legge le storie al nipotino. Beh, io direi di andare a vedere un po' come è andata anche a Mestre e poi magari se avanza del tempo continuiamo a parlare di Ceggia. Volentieri. !